Il 23 gennaio 1970 nasce Erba, in provincia di Como, Moreno Torricelli. Da magazzinieri, una fabbrica di mobili appunto di forza della Juventus, club con il quale, nel giro di pochi anni, vince praticamente tutto. Il calcio all'inizio è solo un hobby per un difensore che basa le sue fortune su una grande grinta e tenacia, doti che impressionano Giovanni Trapattoni. L'allora allenatore della Juventus lo fa esordire in Serie A nel settembre del 1992, dando vita alla sua straordinaria carriera da calciatore. Dai successi in maglia bianconera alla nazionale, con la quale debuta il 24 gennaio 1996 in amichevole contro il Galles. Si conquista così un posto in vista degli europei di giugno in Inghilterra, dove colleziona una sola presenza. Resta nel giro azzurro anche sotto la gestione tecnica di Cesare Maldini, partecipando ai mondiali del 1998 in Francia. La sua avventura in nazionale termina il 10 febbraio 1999 contro la Norvegia, con Tino Zoff in panchina. Per Torricelli si tratta della decima e ultima presenza.